nello stesso articolo 16,1 nelle zone cosiddette extraterritoriali, ovvero beneficiarie delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici degli stati esteri. Concludo, sottolineando, come già avvenuto nel corso dell'iter in Commissione, che l'accordo registra doverosamente un processo di risanamento virtuoso avviato da parte delle massime istituzioni ecclesiastiche già, come dicevo, nel 2010, nel corso del pontificato di Benedetto XVI. Quanto alle garanzie che la Convenzione assicura a specifici immobili, di cui ho già riferito, esse si spiegano alla luce delle disposizioni tuttora vigenti nel Trattato del XXIX, che nel risolvere la cosiddetta questione romana, a fronte delle penalizzazioni territoriali subite dal Vaticano, prevedeva talune garanzie in funzione risarcitoria. Da questo punto di vista, la stessa Corte di Cassazione italiana ha riconosciuto l'inadempienza dell'Italia su tale terreno alla luce della piena vigenza del Trattato. Auspico, pertanto, una rapida approvazione di questo provvedimento, che è perfettamente in linea con il processo in atto verso l'affermazione a livello globale della trasparenza nel campo delle relazioni finanziarie e recepisce il più aggiornato standard internazionale in materia di scambio di informazioni fiscali. Avendone dato una versione piuttosto sintetica, chiedo l'autorizzazione, credo che la Presidente se ne dispiacerà, a fornire agli stenografi il testo compiuto. A facoltà di intervenire il rappresentante del Governo? Mi sembra di no. Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, avvertendo che non si darà ruolo alle repliche. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Passiamo alla discussione del disegno di leggi di ratifica numero 3330, ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica...